Amici di Battista 70 Forno, oggi vi presento IMAC Case per Blackberry Priv Una cover particolare, costruita in TPU rigido, molto leggero e robusto e dotata di una parte esterna porosa Ok, andiamo a vederla così facciamo prima è qui nella sua confezione originale andiamo ad estrarla, come vedete è molto leggera abbiamo questo effetto poroso che conferisce anche un ottimo grip IMAC Case andiamo ora ad agganciarla ok, l'abbiamo agganciata come vedete la cam viene portata praticamente a livello non è più sporgente è protetto bene il Dual LED Flash come vedete è praticamente invisibile quando vado a muovere il meccanismo della tastiera non dà assolutamente fastidio come vedete si apre e si chiude molto bene e anche quando vado a scrivere i bordi non danno fastidio perché sono sistemati sui lati quindi non ci danno nessuna difficoltà come vedete il meccanismo, vi ripeto, rimane ben utilizzabile il grip aumenta frontalmente quasi non si vede per cui non deturpa la bellezza di questo bel terminale ma dà un particolare effetto diciamo come suol dire un effetto quasi carbonio sul retro che devo dire essere veramente molto elegante al solito lo trovate nel nostro shop un saluto da Loris alias Battista 70 per Battista 70 Phone Grazie a tutti